Bentornati ragazzi al Let's Play di Rabiribi, sono il primo italiano a farlo, 50% in italiano e let's go verso la nostra avventura Quindi, c'è un'altra via dei salvataggio qui Salviamo E andiamo ancora a esplorare questa foresta Uh uh! Un personaggio abbastanza importante Fiamma cosa ci fa in questo gioco? Non pensavo che ti avessero... che avessi fatto un provino e ti avessero presa Anche se ti sei trasformata in un'umana, buona sapersi Cosa sono tutti questi funghi rossi? Non ne ho bisogno Però sono abbastanza grandi E ce ne sono così tanti, perché comprarli nei negozi? Oh fantastico, ho trovato la signorina gatta Signorina gatta, sembri familiare, sei anche tu un'amica della paroncina? X? E tu chi sei? Non... non arrivare così all'improvviso Questa foresta è piena di creature che mi... Ehi, signorina gatta! Ma... non tutti i funghi sono buoni Quelli rossi possono essere velenosi Lo sapevo, non sottovalutarmi chiunque tu sia Sono un'esperta di queste cose Probabilmente perché siamo molto poveri E devo cercare cibo ogni giorno Signorina gatta, povera Devi essere un'amica della... della padroncina allora Lo sapevo Padroncina? Non ti ho mai vista Chi sei? Aspetta, orecchie di coniglio? Tu devi essere una di quelle bunny lovers Tutte quelle persone che indossano orecchie di coniglio Non capisco, signorina gatta So cosa può sembrare Ma io sono... La coniglietta della padroncina Stavo pensando che la signorina gatta potesse aiutarmi a trovare la padroncina Sì, Erina parla... Si riferisce agli altri sempre in terza persona Anche associata avanti Quella persona a cui sta parlando Stai indietro, stramboide Potrei essere povera Ma non mi rirò mai a un gruppo di pazze E usare Rumi E usare la scusa di essere la coniglietta di Rumi Questa è la terza volta Che mi stai prendendo in giro Aspetta, deve essere un errore Io sono... Ehi, cosa pensi di fare? Ti ho detto di startene indietro Aspetta, signorina gatta E così c'è la nostra prima battaglia boss Cocoa, livello 1 Allora Questa musichetta è troppo, carina L'avranno usata anche nel trailer E gli attacchi di Cocoa consistono in bombe Bombe che lasciano piccole esplosioni Qui possiamo già vedere il bullet tell Ah Premi su più triangolo, ecco, per la drill Abbiamo incontrato una nuova mossa Ecco, quando Si apre Questi cosa vuol dire che il personaggio fa i suoi attacchi speciali Defens booster è diventata anche più forte in difesa Ma l'abbiamo sconfitta Di già, vabbè Per ora le battaglie sono facili Non Nessuna violenza Ma quale persona colpirebbe con un martello? Non voglio essere battuta Non perderà come te Ehi, signorina gatta Potresti startene a ascoltare? No, io odio quegli stramboli Quelle stramboli delle bunny lovers Non andare, signorina gatta Ma cosa sta succedendo? Stramboli di bunny lovers Ma io sono una coniglietta Forse ho preso la persona sbagliata E non ha capito quello che dicevo Devo tornare indietro per adesso Però non si torna indietro No, no, no Perché qui abbiamo un'arma secondaria Non usata per i combattimenti Ma utile per esplosioni Bombe di carote Allora Premi giù più triangolo per usare la bomba di carote Inizialmente il danno non è molto alto Va bene Consuma SP E con l'uso Si migliora Così come il martello Allora col martello Durante la battaglia di Cocoa Vi ha imparato questo Bene Andiamo avanti Dai Allora Ora che abbiamo battuto Cocoa E preso Le bombe di carote Andiamo qui Ora con le bombe di carote Cosa possiamo fare? Tirandone una qua Possiamo rompere queste rocce E andare qui Uh uh Il nostro primo power up Health up Una pozione rossa Che ci aumenta la vita Vedete Da 50 È andata a 70 Ci sono tanti potenziamenti Nel corso del gioco E io non li ho mica presi tutti Perché sono davvero Nascostissimi E le aree da esplorare Sono molto molto vaste Uh Adesso una combo da 4 colpi Grande Vedete Si è giunto un colpo in più Oh oh Guardate Cocoa È stato terribile Se quelle stramboni Continuano a mostrarsi Rabi Rabi Town Sarà finita Devo andare Devo tornare indietro A Rabi Rabi Town Finché posso E così usa la warp stone E ovviamente Rina Avendo rigliato la conversazione Penserà bene di usare Questa pierre del trasporto Pure lei Per tornare a Rabi Rabi Town Ma non ce la fa Ah no ce la fa Ok Ma Non è di sicuro Una città Non è di sicuro Una città Ha funzionato Sono stata trasportata In un altro posto Ma dove sono stata trasformata Trasportata Forse ho fatto sì Che le cose siano peggio Ma devo dire Questo piatto opposto È carino Essere umano Un'umana Non è così male Dopotutto Ho sempre voluto Vedere il mondo Allora Spectral Cave Questa è un'altra area E A Spectral Cave Ora come ora Non c'è assolutamente Niente da fare Paredi troppo alte Nemici davvero fortini Sì perché qua Ci dobbiamo tornare Poi diverse volte Più avanti nel gioco Ma quello che faremo ora Sarà Beh Vedrete Molto molto importante Conosceremo la nostra Co-protagonista Siete pronti? Io sì Andiamo vai E continuiamo a eliminare Beh non si fanno prendere Ah combattere i nemici In volo re È fastidiosissimo Non possiamo Non abbiamo ancora L'abilità di attaccare In salto Più avanti poi Lo otteniamo Eccoci qua La nostra Co-protagonista In chi ho sbattuto Contra chi ho sbattuto Un coniglio gigante Sta indietro Ribbon non è gustosa Per niente Scusa signora Fatina Non stavo Prestando attenzione Ti sei fatta male? Ribbon non ha mai sentito Di un coniglio parlante Ha parlato Non venire più vicina Le fatine possono essere piccole Ma non Attaccare briga con loro Ribbon non è spaventata È così la nostra seconda battaglia boss Contro Ribbon la Fatina Attenzione Ecco La specialità di Ribbon Sono questi attacchi proiettili Vai Oh Hammer level in crazy Ed ora si può fare Le combo più velocemente Ecco l'attacco speciale E Consiste in questi laser Basta stare qui Come l'ho detto Non basta stare qui Muoviti Oh oh Adesso sono questi proiettili Vai Vai Cazzo vai Battuta anche lei Battuta anche Ribbon È così allora La carina Ribbon Che deve essere mangiata Da un coniglio gigante E Ribbon Non ha avuto Una vita Non ha ancora una vita lunga Davanti a sé Lily Pix Si dimenticatemi Per favore Credete che Ri Credete al fatto che Ribbon Non vi ha davvero abbandonate Smettila di parlare da sola Non ti voglio mangiare Volevo solo passare Davanti a te Mi ha catturata Ribbon sta parola Sei mangiata Oh 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 Sì Sebbene il gioco sia in pix A volte ci sono queste scenette In stile anime Non animate Così bellina e care piccola Le fatine erano proprio Della mia taglia Ciao signora fatina Io sono Elina Piacei conoscerti Un'umana Ciao Grazie per aver salvato Ribbon Ecco Ribbon Parla sempre Si riferisce a se stessa Sempre in terza persona Dove è andato Il coniglio gigante Ribbon è quasi morta Di paura Io ero quel coniglio E comunque la carne fa male Conigli Ma Tu hai quelle gigantesche orecchie E Ribbon è allucinata Quindi tu sei una coniglietta Che sta cercando per la sua parrucina C'è qualcosa di diverso in te Ma sembri sempre un'umana Si non è strano Ma non so perché sono diventata un'umana Me ne stavo così Quando mi sono svegliata E Pensavo fosse un sogno Wow Ribbon non aveva mai sentito Riguardo a cose come questa Perché sei qui Ti sei persa Non volevo andare qua sotto Volevo solo Andare a Rabi Rabi Town Rabi Rabi Town Si è dove vive la parrucina Che c'è di male Sembri seria Ribbon Niente Ribbon non è seria Perché sei qui Ribbon Allora perché sei qui Ribbon Oh si Ribbon è scappata Ma Pixie e Lily sono state ancora intrappolate Scappata? Cosa ti è successo? Lily e Pixie Lily e Pixie sono le amiche di Ribbon Stavamo esplorando quando una ragazza di onda ci ha catturate Va bene Adesso Irina accetterà La richiesta di Ribbon Ovvero andare a cercare di salvare Pixie Intanto ragazzi Ribbon si è unita a noi Guardate c'è anche la sua icona nel menu E premendo il tasto quadrato Possiamo sparare proiettili magici che consumano mana Sfortunatamente il nostro viaggio si interrompe subito Perché la parete è troppo alta per Irina Ragion per cui le due decidono di ritornare ancora una volta alla Starting Forest E seguire quindi la strada di Irina Ovvero andare a Rabi Rabi Town Ragazzi e benessi il nostro viaggio della Spectral Cave si interrompe qui Allora Anche Ribbon può essere potenziata con l'usecco In relazione con Ribbon Level Up La ricarica è aumentata di velocità Ora Ribbon si ricarica più velocemente Dunque ambiamo Vai Ora direi di salvare Ora che abbiamo la coprotagonista nella nostra squadra Perfetto Intanto sono apparsi un sacco di nemici Ah livello del martello aumentato Premi giù più triangolo ecco per fare una schiacciata col martello Allora Ribbon non ha solo questo attacco Più avanti nel gioco troveremo tanti altri attacchi magici per lei Di diverso tipo Il mio preferito Beh è il primo che si ottiene Non questo Ma vabbè lotteremo tra poco Eina Guarda Una Warpstone Warpstone Questa cosa che galleggia si chiama Warpstone È un nome veramente noioso Va bene Allora adesso ci spiegherà quello che ho spiegato io Porta solo in luoghi già conosciuti Per questo Eina quando l'ha usata si è trovata così Allora Warp Questi sono tutti i livelli Quelli neri Sono tutte le zone, i livelli, i luoghi Che ci sono nel gioco Però adesso sono disponibili solo Spectral Cave E Starting Forest Quella che vedete invece In basso a destra È una mappa del mondo di Rabi Libi Quella al centro Bianca è Rabi Rabi Town Noi dobbiamo andare lì Allora possiamo solo tornare alla Starting Forest Ragion per cui torniamo alla Starting Forest È vero siamo tornati alla foresta Sei grandissima Ribbon Questa è conoscenza comune sull'isola Adesso da che parte Eina? Dobbiamo andare da dove mi ero svegliata Questa parte Seguimi Allora andiamo Dobbiamo tornare dove quelle ragazze ci sbaravano la strada Oddio cosa sta succedendo No ascoltami Ho veramente visto un coniglio qui Ok ok Me l'avrei detto un migliaio di volte Ma non deve essere una di noi Anche se sembra umana Non penso Deve essere per forza una di noi Anche se sembra umana Non penso sia un coniglio Questo vuol dire che il tuo amore per i conigli Non è abbastanza forte Sapevo a prima vista che lei era una coniglietta speciale E vabbè Ribbon Ribbon cosa succede? Quelle orecchie da coniglio Penso che forse ha trovato della gente come me Con orecchie da coniglio? No Queste due sono ragazze che si vestono con finte orecchie da coniglio Oh no Non quello Ribbon l'ha dimenticato Dimenticato? È un coniglio È veramente un coniglio Il tuo stinto era giusto Te l'avevo detto Questo coniglio Finalmente dopo tutti questi mesi Un coniglio è finalmente apparso Ed è anche un coniglio in forma umana È il paradiso Ribbon non piace lo sguardo nelle loro facce Ribbon cosa c'è con queste ragazze coniglio? Qualcosa sembra che non vada bene Queste non sono conigliette Ribbon se ne sbalza e se ne è completamente dimenticata Di cosa è stramboidi Stramboidi? Le spiegazioni dopo Proteggiti Battaglia mini boss contro le bunny lover Ragazzi finalmente le vediamo Ce ne aveva parlato Cocoa E beh Eccole qua Queste in pratica ci spiegherà che sono Bunny lovers Un gruppo di stramboidi che amano i conigli alla follia Li venerano come dei dì Vorrebbero avere dei coniglietti come animali domestici Ma c'è un fatto strano Nel mondo di Rabi Rabi I coniglietti si sono praticamente estinti Ed è passato un sacco di tempo Da quando Ne è stato visto uno Quindi Erina praticamente È una specie in via di estinzione Dovremmo averle seminate Stai attenta Vorrebbero essercene più altre in avanti Ribbon, Ribbon, guarda è la spiaggia Dovresti essere davvero più attenta Non hai mai visto la spiaggia prima d'ora? È veramente carina Padroncina non mi aveva mai portato qua Ma Ribbon non è colpa a tua padroncina Con queste persone è ovvio Perché Va bene Allora Siamo in un altro luogo Rabi Rabi Beach E un potenziamento mana Questo è per Ribbon Così possiamo sparare più Proiettili Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Noi ci rivediamo alla prossima Ciao